salve a tutti gente e bentornati al super mario 3d year oggi partiamo con super mario 3d land se guardate ho fatto anche una bella cosa sullo schermo sotto che non si vede granché ma super mario 3d land una volta ogni cento anni stelle cadenti piovono sul regno dei funghi è giunto di nuovo il momento sono passati altri cento anni se questo è una dichiarazione sull'immortalità di mario and company questo piccolo sembra un po confuso forse chiederò di cucinare qualcosa per me that's sexist ho voglia di una torta di dimensioni galattiche eh già c'è sto tizio la nuova rosalinda io sono sfavillotto lume sono il capo di questi sfavillotti ma i teletrasporti sono solo per random bullshit wow what the fuck is going on yoshi da solo rende migliore sto gioco del primo galaxy secondo me lo sapevo lo sapevo che non era una piattaforma oh man oh ok anche le altre nuvole hanno quella consistenza no l'ho fatto ancora oh oh my god parliamone 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 no please fuck 10.000 punti ok non mi avevi parlato dei limiti di tempo però vabbè oh my god la peggiore performance oh no ho già perso guarda mi dà anche il salto oh no come on mi uccide wow fanno anche vedere l'energia che scende a zero mi uccide mio acerrimo rivale i don't care il mio acerrimo rivale è il timer oh wow si fu lì davanti questi sono sensibili all'acqua ho detto all'acqua sono vulnerabili all'acqua sono dei grandi masochisti anche come la sfondo andandoci di un picchiato addosso o crepo fuck well ho provato non era la soluzione oh beautiful ok beautiful voilà 36 vite ma mai servite quanto posso scalarti e quanto puoi one shot armi ma guardati continui a saltellare di qua e di là ti stenderò come una pizza spaziale sei italiano giusto oh sti casinisti della domenica happy birthday to me target oh il cecchino del oh ok mangialo tu mario sai come fare ti ricordi i bei tempi boh forse non erano bei tempi ok bug nel sistema fracasso nel covo dei granchi sono granchi con la y quindi e la k granchi come erano in inglese? crabs con la k non dirmi di muovere no thank you muovo quando voglio ahhh tutta ahhh no comment no comment fuck me sto per spostarmi nooo non mi piace questo si monete viola quindi sono più di 100 sì perché ne sono solo più di 100 goodbye my lover goodbye my brother eh mancate troppe wow una in più pessimo oh oh che che cultura what the fuck è successo Yoshi Yoshi oh prendila con Yoshi oh no oh Yoshi is dead ah no c'è ok siiii mi giù a tenermi vai attenzione fuck you sono morto verso l'alto wow non ho fatto niente nessuno nice yeah hug me no niente abbraccio Mario ghiaccio no Mario molla why not povero lethal 5-6 anni fa che cercava di farla con la molla sta parte per far contento Miyamoto-san never again forse è questo che mi ha fatto odiare Mario molla grazie grazie delle monete grazie 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 come back again oh my god 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 il up 3d mario finisce qui prendila 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 Ok Questione di feeling Ok Approccio interessante Questa è simpatica Gioco a beat the beat baby Oh fuck me Dimmi che sei morto No però Ok sono morto Gioco a beat the beat Devi saltare fra i beep Siano lodate le bandiere Almeno hanno tolto Beat the Mario With sticks Perché dovresti renderti visibile adesso? Solo perché hai rotto le cose Cioè Bowser Jr. non ha capito il concetto del vincere No, io penso che voleva Ma suo padre gli dice no Se non gli dai una chance non c'è gusto Ma papà Non vinceremo mai così Sì Benvenuto sei naz... Ti chiami Bowser Jr. per qualcosa Dovrai innamorarti della figlia di Mario e Peach E portare avanti la tradizione Ma io non voglio Chi sostituisce Mario? Il figlio di Luigi Che salva sua cugina E che vado a salvare mia cugina Non è come vado a salvare la principessa Sì Fatti di affari i tuoi Se il tuo cugino sei la c***a OOOOOOOH BLEEEEEEEEEE A quanti millimetri era dall'Hitbox della stella? Probabilmente pochissimo Guarda come sono felici Mi ricordo che fossero tipo quelli di Mario 64 Ma sono super felice di ucciderti Almeno puoi pattinare Non devi correre con Mario Iride Cosa che io odio Noi Non è Non è Noi BLEE BLEE De La BLEE De la BLEE Devo avere un superpotere o qualcosa di genere Non è normale Si Si chiama cagarla all'estremo Non è normale la cagata assoluta l'impossibile che era apposta quello mi piacerebbe se fossi tipo in un mango in anime troverebbero un modo per usare il mio potere in modo utile forse dovrei tipo essere la talpa del nemico per rovinare i loro piani all'ultimo no vabbè saresti un cattivo semplicemente che la caga alla fine peggior cattivo tipo lista per dare il colpo di grazie al nemico gli scivola la spada e gli finisce sul piede capitano in successo se prendevo qui due lì all'ultimo ce la facevo tutto culo niente arrosto nuovo nome da supereroe minimo indispensabile ti ha perso quello dorato sotto il sedere mi si chiamano blarg questi no bel nome già zecchettissimo in che senso tipo il timing peggiore cancellato dall'esistenza oh bella musica sembra quasi disney ed ecco pippo arriva pippo ducktales oh no vabbè dovrò rifarla ti vieni a fare 10 meno punti non è difficile ti do un sacco di tempo sai cosa succede quando ti ricchi che non è difficile la guffi è super difficile guarda tipo lascia stare la addon non ti conviene neanche è tipo uno dei livelli più complicati del gioco bene la prima cagata la prossima andrà meglio sai se non gli avessero dato da sputare a ste stupidi cosi non gli avessero spero che in gala in odyssey ci sia un tasto di prova l'avrei fatta chiudere l'altro perchè jeez non gli avessero il fatto è ancora minimo indispensabile colpisce ancora oooh ahhh moneta è viola che va piano va sano e va lontano non quando c'è un timer Lettale alla fobia dei timer. Fiuuf, cosa? Ancora un minuto e mezzo avevi di tempo. Shut up, hai detto, no? Alla fobia dei timer. Pikmin 1 mi mise la paura di Dio nel cuore. La paura che tutti i videogiochi sarebbero stati a tempo da lì in avanti. Perché io conoscevo solo Nintendo. Era al lancio del Gamecube. No, no, no! Uuuuh, nostalgia! Ricordate, guys, primo episodio del 3D, erbei tempi. Sento che le mie mutande si stringono. Fa parte della nostalgia. Stel Giappone. Ti distruggerò per il gusto di farlo. Non ti piace l'idea? Però lo schianto a terra su Womp, se ci riesci, pappamolle. Beh, anche nell'originale ti davano consigli. No, ho pestato di nuovo. More like re Womp Womp Womp. La tua principessa ti sta aspettando. Eh, ti sto aspettando, eh, ci vedete. Ah, fuori timing. Sorry, Yoshi! Oh, man! Mmm, uuuuuh. Ok. Strada dei pro. Bruisate al Q. Yeah! Oh! Niente più Bowserotti. Yeah! Come, è già finita? Eh, no. Questa è la musica, baby. Oh, shit! Ed è la miglior musica di tutto il 3D year. Dammit! Comunque è finita troppo presto. Non ha un'altra fase? Ah! I miei poteri! Il mio impero! Tutto in pezzi! E la torta galattica! Mmm, non riuscirò mai ad assaggiarla! Mamma! 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 Io sono Rosalinda. Osservo dall'alto e proteggo il cosmo intero. Aspettavo tutti voi. Non ti dimenticherò mai! Anche quando un giorno diventerò io stessa una stella! Non mi dimenticherò mai di te, Mario! Mai! Non ti dimenticherò mai! Oh, no! Super Mario Galaxy 2. E' un po' così il finale, un po' insulsa la storia, ma fa niente. Mario! Mario, per favore! Cosa stai facendo? No! Non sulla neve, Mario! Non mangiare la neve gialla, Mario! Fine! You're welcome! Hey la gente! Grazie di aver guardato questo video! Come al solito, ringrazio moltissimo Kirby Ale per aver separato in clip gli streaming del Super Mario 3D, fra altri, e ad Adam per aver editato questo video e tutti i precedenti della serie. Grazie mille per il vostro impegno e quello che avete fatto. Voglio ringraziare i miei Patreon per il loro supporto, in particolare i fan che vedete su schermo. Link in descrizione se volete farne parte anche voi. E naturalmente Polly G, grande figo, vero figo, che apprezzo tantissimo. Mi fa piacere che mi ritieni meritevole di questo supporto e sono abbastanza sicuro che a te freghi più di me di quanto a Nintendo, freghi di Galaxy 2, almeno in questo momento. Grazie di nuovo, grazie a voi dell'attenzione e alla prossima! Bye-bye! Grazie a tutti i noi! Grazie a tutti.